Uno dei miei allievi è un insegnante di pilates, quando veniva a lezione le prime volte io gli esibivo il mio bel leggio sulla sinistra del charleston, vai cominciamo l'esercizio e lui mi diceva, ma sai che tenere leggio così in questa posizione alla lunga per la cervicale insomma ti può creare dei problemi, ma dico io, e mi dice, ti dispiace se uso io un accessorio, no 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 ci mancherebbe, oh dopo che mi ha fatto vedere questo accessorio credimi che me ne son fatto subito regalare uno, che cos'è questo accessorio? è una molletta con un magnete da una parte, in pratica io non faccio altro che mettere questa bella molletta sul mio libro e la calamita dietro si va attaccare perfettamente sul cerchio del tom, mica male, ergonomico direi, e anche stavolta ti ho risolto un problema, la fisioterapia